allora ragazzi dobbiamo capire come risolvere questo problema è molto importante già ma chi ha fatto la testa? ramen bollente schizzato in fronte e tu? troppi dogesa io invece ho dato una capocciata a bordo piscina storia vera ma torniamo al video ok? le idee non ci mancano anzi mi sembrano molto originali e la sceneggiatura è ben fatta abbiamo anche luci buone i pannelli per isolamento acustico è un'attrezzatura da fare in video ai maggiori produttori cinematografici americani abbiamo eduardo vicinissimo a vincere il premio oscar come miglior attore straniero e federico il miglior cameraman di youtube abbiamo tutto ciò che ci serve per fare il grande salto ma niente non ci riusciamo e dovete ammettere però è proprio così è da settimane che ci penso ma niente non riesco a venirmi a cavo se solo decidessi di accettare la proposta di commentare un video su youtube e magari il proprietario di quel canale decidesse di rispondere così da creare una piccola ma profonda interazione tra due immigrati soli e poveracci così da ottenere incredibilmente una sponsorizzazione di rinunzionale sarebbe figo no? no è impossibile rinuncio è impossibile lascia perdere dai non ne vale la pena sponsorizzando questo suo canale lui non sa niente di questa roba che sto dicendo andate da lui e guardatevi questo canale e iscrivetevi fatelo salire ciao fete volevo ringraziarti come si deve con un piccolo sketch ed una fetta di torta presa al combini qui sotto che però dovrò consumare io dagli 600 km che ci separano sperando non ti dispiaccia un abbraccio ciao